Per la prima volta in Friuli Venezia Giulia sbarca a Trieste la Mixed Martial Art, una disciplina di combattimento in cui i lottatori si esibiscono dentro una gabbia con varie forme di lotta, tra cui il grappling e il jiu-jitsu. Il protagonista della serata di domani al Palasport di Calvola è l'udinese Lucrezia Ria, allieva del maestro Lanci allo Shoot Team di Modena. La Ria, studentessa di Ingegneria Meccanica, si è laureata nella passata stagione campionessa del mondo di MMA, nella finalissima disputata a Las Vegas e poi ha esordito anche come professionista. Quello di Trieste è il suo secondo match da pro e chiaramente vorrebbe sfruttare l'occasione di combattere vicino a casa per sentire anche l'appoggio dei suoi migliori tifosi. I combattimenti della MMA sono sulla distanza delle tre riprese da 5 minuti l'una e non ci sono limiti, comprese le ginocchiate al viso e altri colpi sferrati all'avversario al suolo. Solo alcuni colpi sono vietati esclusivamente per motivi fisici. Il cartellone, allestito dai tecnici Moresan e Stirar, prevede una prima fase di incontri dalle 14 in avanti con una vetrina riservata ai più giovani impegnati nelle discipline della kick light e del grappling, mentre dalle 16 è la volta degli atleti di K1 e degli MMM dilettanti. L'apertura ufficiale della manifestazione al Paracalvola di Trieste è prevista per le 19.30. Lucrezia Ria se la vedrà con la francese Elodie Gioria sulla distanza delle tre riprese da 5 minuti l'una.